Inaspettato. Inaspettato doversi ritrovare ancora qui a parare di calciomercato, ma se ho capito l'andazzo, nelle prossime due settimane dovremmo essere sempre pronti a caricare nuovi contenuti. Secondo video, con anche una diretta in mezzo, ma non possiamo fermarci. Questa mattina si era iniziato un pochettino a parlare di Scesni. Era un nome che era venuto fuori, ma si parlava di ritiro per Teccone. Io non so se sono collegate le due cose, e quindi questa voce è filtrata perché si stava già iniziando a parlare con delle fonti vicine a Scesni per quello che sta per accadere, per quello che sta per ufficializzare la Juventus. Però Tec e la Juve, secondo praticamente tutti gli organi di informazione, tutti i giornalisti sportivi più importanti, hanno trovato l'accordo per la recessione consensuale del contratto. E quindi permettetemi un saluto, un omaggio, un tributo a Teccone, che è stato uno dei giocatori ai quali sono stato più legato in assoluto negli ultimi anni, perché credo che sia tranquillamente etichettabile come l'ultimo giocatore ad aver giocato nelle vere Juventus. Qualcuno potrebbe dirmi pure Rugani, e assolutamente, Rugani ha fatto un percorso lungo con la Juve, ha vinto tanti trofei, tanti titoli, però Rugani è sempre stato una seconda linea, una riserva, mai un titolare. L'ultimo prima di Scesni era stato Alexandro, quando a fine maggio salutiamo Alexandro dopo il suo gol al Monza, della vittoria contro il Monza allo Stadium, eravamo lì a dirci, secondo me rimarrà solo Scesni come giocatore che ha fatto parte di quegli anni lì. Io me lo ricordo quel giorno, perché era proprio poche ore prima che veniva iniziata a circolare la voce di Di Gregorio e la Juventus. Di Gregorio premiato come miglior portiere della Serie A proprio all'Allianz Stadium, e sia Scesni che Di Gregorio non hanno giocato la partita, è partito titolare Perin e poi è subentrato in soglio nella Juventus. Si pensava a Perin fa l'ultima e poi se ne va, Di Gregorio arriva, si fa un anno alla Juventus con Scesni che fa l'ultimo, arriva alla conclusione attuale del contratto e fa la chioccia, quindi Di Gregorio cresce sotto l'ala protettiva di Scesni, un po' come era stato proprio con Tech e Buffon. Invece poi i piani sono cambiati, anzi probabilmente i piani erano già quelli, erano già limpidi, la Juventus voleva alleggerire il bilancio, quindi cedere Scesni che è un ingaggio veramente importante per quelli che sono gli standard oggi della Juve e ha provato in tutti i modi a forzare la mano col portiere e a farlo uscire. Ecco, io credo che questo sia stato un errore di Giuntoli. Ci mettiamo anche gli occhiali per commentare questo errore, però questo insieme al rinnovo di Rugani, secondo me sono stati due macroerrori di Giuntoli, due situazioni dove non siamo stati bravi a leggere quello che stava succedendo, assolutamente sono state due situazioni secondo me rivedibili per il calciomercato della Juve. Giuntoli è andato immediatamente su Di Gregorio con il campionato vecchio che non era ancora concluso, segno che si voleva dare priorità alla porta per cercare di risolvere questa situazione. Scesni poi ha avuto delle offerte, ci sono state delle squadre che hanno provato a bussare alla porta di Scesni, hanno provato a sondarlo diversi club arabi, avevano fatto anche delle offerte da capogiro, e poi c'erano stati anche dei contatti di squadre come il Monza, come la Fiorentina che aveva preso De Gea, eccetera, eccetera. Probabilmente Scesni non è mai riuscito a trovare la squadra che aveva in testa, e allora proprio qui, oggi, adesso, dopo le voci di stamattina del ritiro, mi viene almeno da domandarmelo, cosa farà Scesni? Perché sicuramente Scesni dopo questa recessione del contratto sarà visto come un free agent, quindi un giocatore che potrà firmare un contratto con chi gli pare. Nessuna squadra dovrà riconoscere il cartellino a Scesni. Io mi ricordo quando avevamo fatto i video all'inizio del calciomercato e si diceva aggiunto di Scesni lo cede soltanto per una cifra intorno ai 5 milioni. E avevamo anche lodato questa strategia di Giuntoli, lo ricordate? Basta regalare i calciatori, almeno un pochino, almeno qualcosina ai calciatori, è giusto andarselo a prendere. Sono calciatori tuoi, giocatori importanti, il cartellino è tuo, non ha senso regalarlo. Siamo molto distanti da quella situazione, da quella lettura, e sinceramente anche tutta la lista degli esuberi di giocatori messi fuori rosa da Giuntoli, dopo, anzi, per bocca di Tiago Motta, ma sono state ovviamente delle valutazioni non solo sportive, ma anche economiche, contrattuali, sono tutti calciatori che molto probabilmente avranno poco, se non niente, di cartellino da dare alla Juventus, quindi anche qui quello che c'eravamo immaginati un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, è distante dalla realtà. Quindi, secondo me, Giuntoli è andato a sottovalutare tante cose sul mercato e spero che non stia sottovalutando anche con Mainers, Kalulu e tutti questi giocatori qui. Cioè, ora è ora di muoversi e di concretizzare diverse trattative in entrata. Non c'è più tempo di scherzare, la Juventus lunedì inizia il campionato e non ha una squadra per scendere in campo in una partita ufficiale. Serve spingere, serve insistere, serve chiudere, ufficializzare, mettere nero su bianco alcune situazioni. Era una priorità per la Juventus il portiere? Secondo me, no, si poteva benissimo fare questo anno di transizione con Cesni di Gregorio, però ovviamente la Juve, che deve dare un'occhiata ai conti, ha scelto questa strada. Cesni rescinde il contratto, ci sarà una buona uscita, si parla anche di una buona uscita importante. Io ho letto qualcuno che si lamenta di questa cosa e dice Cesni avrebbe dovuto lasciare la Juve senza chiedere niente perché qualche mese fa aveva detto che se il club è in difficoltà bisogna aiutarlo a rescindere il contratto. Cesni rescinderà il contratto. Cioè ha tenuto fede a quelle parole. Secondo me anche dire che non merita una buona uscita è abbastanza eccessivo. Stiamo parlando a tutti gli effetti di un TFR, un trattamento di fine rapporto. Il contratto c'è, parla chiaro. Ci sono tanti giocatori in questo momento alla Juventus che sono fuori rosa, hanno un contratto anche annuale e non sono lì che dicono va bene allora rescindiamo il contratto e dammi semplicemente una buona uscita. Perché? Perché ovviamente il contratto è stato firmato da più parti e io ci stavo anche pensando prima, non mi viene in mente nessun calciatore titolare perché di Cesni stiamo parlando di un titolare a memoria. Poi magari mi sbaglio, anzi vi invito, fatemelo sapere nei commenti, ma a memoria nessun calciatore titolare della Juventus o di altre squadre che rescinde il contratto, da titolare ha messo fuori rosa, rescinde il contratto e addirittura non vuole una buona uscita. Cioè la storia del calcio non mi viene in mente nessuno, anche perché per i calciatori questo è un lavoro. Però secondo me Cesni è stato molto professionale perché avrebbe potuto tranquillamente dire sapete che cosa mi dovete un altro anno di contratto, io non ho intenzione di andare da nessuna parte e me ne vado là. C'è qualcuno che dice doveva accettare la rabbia. Boh, ragazzi secondo me se uno non vuole andare a fare un'esperienza di questo tipo difficilmente puoi dirgli ma lì dovevi andarci. Maggior ragione Cesni che ha avuto un bambino, una bambina, la moglie ha partorito un paio di mesi fa, un mese fa, poco prima degli europei probabilmente, o forse al termine dell'europeo o della Polonia stessa. Quindi quelle sono anche secondo me scelte di vita e per quello che dico sono curioso di vedere da free agent se Cesni avrà una squadra, ha già trovato una squadra, andrà da qualche parte o se quelle voci di stamattina sul ritiro possono essere confermate. Quindi se Cesni possa magari dire oh sapete cosa, io non sono come Buffon, non sono così lungimirante, non ho questa necessità comunque di giocare a calcio, è quello che devo darlo dato, non trovo nessun altro club di mio gradimento e quindi la mia avventura si ferma qua. Sarebbe un peccato, mi dispiacerebbe, perché comunque per me Cesni è ancora un portiere di ottimo livello, ha due anni in più di me, o tre, dovrebbe avere 34 anni, quindi per un portiere ci sono ancora due, tre anni per quanto mi riguarda di alti livelli in Serie A, bene o male potrebbe giocare in tutte le squadre, quindi sono proprio curioso di vedere se ora come free agent potranno esserci dei club interessati, magari a fare un'offerta, sicuramente al ribasso rispetto a quello che era l'ingaggio che percepiva oggi Cesni, magari in linea anche con la buona uscita che andrà a ricevere da Juventus. Per me Cesni fa un bel piacere a Juve, non ci giro troppo intorno, con tutti i giocatori che ci sono sul mercato, fuori rose, eccetera, eccetera, nessuno si mette una mano sul cuore, non sul portafogli. Difficilmente vediamo dei giocatori che non sono più utili al progetto, dire va bene, mi faccio da parte. Cesni lo sta facendo, e quindi secondo me merita rispetto per quella che è stata la sua storia dentro il campo, è stato un portiere molto forte, è stato anche l'unico portiere nella storia della Juve a panchinare Buffon, quando Buffon poi è tornato dall'anno, dall'avventura al PSG, e secondo me anche fuori dal campo ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante, anche un giocatore che ai microfoni ha espresso concetti importanti, mai banali, le conferenze stampa di Cesni erano sempre uno spettacolo e qui le abbiamo commentate tante volte. Quindi un grosso in bocca al lupo a Cesni, un grosso grazie, e secondo me però lato Juve qualcosina di meglio si poteva fare, perché un paio di situazioni secondo me sono state sottovalutate. Fatemi sapere la vostra, che è sotto nei commenti.